Ciao bambini, sono la maestra Michela della sezione azzurra. Oggi vi leggo la storia Il piccolo orco. Lontano, lontano, in cima a una collina verdissima, abita un piccolo orco con la sua famiglia. Si chiama Sweet ed è un orco gentile della tribù degli orchi dolci. La sua casetta dista pochi passi da un paese e da lassù si possono vedere i comignoli, i panni stesi al sole e le feste nella piazza. Sweet ama molto i bambini. Gli orchi dolci si commuovono spesso, soffrono il solletico e si coccolano a vicenda. Adorano mangiare i biscotti alla canella e fare collezioni di sassi dalle forme strane. Tutti i giorni dall'alto della sua collina Sweet guarda i bambini giocare e divertirsi ma non osa andare verso di loro. Sweet è molto molto timido. I bambini più adaci che ogni tanto si avvicinano alla casetta degli orchi per sbirciarli lo trovano simpatico ma spesso ridono di lui. Non perché è verde, gigantesco e ha le orecchie a punta ma perché si succhia il pollice e va sempre in giro col suo dudù. A nove anni è stravagante avere certe abitudini ma quello che gli umani non sanno è che gli orchi dolci hanno una vita media di 340 anni. Perciò Sweet, se fosse un bambino, avrebbe appena tre o quattro mesi ed è più che normale avere un dudù a quell'età. Siccome il piccolo orco non se ne separa mai, il suo dudù è veramente veramente sporco. Mamma orco ne ha provate di tutti i colori per riuscire a lavarlo. Ha detto al suo piccolo che se il dudù continua a puzzare così forte sarebbero arrivati gli orchi cattivi a portarselo via ma Sweet non lo molla mai. Così una sera mentre il piccolo orco dorme, sua mamma prende dudù e lo mette in lavatrice con l'amorbidente al profumo di Lilla che ha comprato con l'offerta 3x2. La mattina dopo Sweet si sveglia e non lo trova accanto a sé. Quindi corre in cucina urlando disperato mamma il mio dudù è scomparso. La mamma che nella notte si era data da fare per asciugarlo glielo porge speranzosa. Sweet guarda il dudù candido, bello pulito, ne annusa il profumo, lo succhia un po', poi lo getta per terra e scoppia a piangere disperato. Era veramente troppo leccio Sweet, si giustifica lei, ho dovuto lavarlo. Sweet non si dà pace, piange così forte che lo sentono fino in paese. Mamma orco prende il piccolo in braccio, gli fa tante coccole, tenta di consolarlo anche con il solletico e i biscotti alla canella, però le lacrime non si fermano. Al suono inconfondibile del singhiozzo di un orco dolce, i bambini più coraggiosi decidono di andare a vedere cos'è successo a Sweet. Arrivati davanti alla porta di casa sua lo chiamano in coro. Sweet, Sweet! Il piccolo orco, con la faccia bagnata di lacrime, apre la porta, ma quando vede tutti i bambini corre a nascondersi dietro la mamma. Sweet è triste perché il suo dudù ha cambiato odore e colore dopo il lavaggio, spiega la mamma orco. I bambini conoscono molto bene il problema e a Teo, il più piccolo di loro viene un'idea. Raccogli il dudù da terra, saluta Sweet e la sua mamma e se ne va con i bambini lungo il sentiero, propone agli altri. Teniamolo tutti a turno per un'ora. Al tramonto i bambini tornano alla casa degli orchi e bussano alla porta. Teo stringe in mano il dudù e lo porge a Sweet. Mamma orco è perplessa, ma finalmente il singhiozzo si placca e il piccolo orco si fa avanti. Il dudù è tornato color marrone e non profuma più di lillà. Sweet lo prende, lo annusa, lo succhia. In un attimo sente tutti i giochi, le coccole e le avventure delle vite di quei bambini che ha visto tante volte da lontano. Gocce di acqua salata, baci, spruzzi di fango, profumo alla lavanda, soffritto di cipolla, noce moscata e persino una lacrima. Tutto quello che riesci a dire è delizioso. Sweet, tu e il tuo dudù più felice che mai. Ciao bambini, alla prossima!